Salve a tutti, eccoci, abbiamo potuto essere un io 2 chiamata yokai yokai con il nostro cristiano mal gioia Allora, questa è porta che non si apre ok Noi siamo, prima di qua abbiamo scoperto un'altra zona yokai che dovremmo visitare adesso Che mi sa che, non ricordo male, insomma dall'ultima registrazione è passato un po' di tempo Dove essere sincero, qua comunque ho trovato un friend che mi può sempre tornare utile E adesso andiamo Mi sto dimenticando qualcosa, allora Qualcosa mi sfugge Qualcosa mi sfugge, allora io sto, ah sì no, questa è l'aperta Sì, 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 di qua Di qua, dove, io vi chiedo, ah sì sì, certo, allora bisogna, e si saliva da qua Da questo lato, ecco, e poi Mi ricordo, sì, 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 sì Che c'era questo NPC molto simpatico e lo quace Che ci diceva semplicemente Levatevi da qui, punto Eh, non dicevo nient'altro, vabbè E andiamo Andiamo questa zona yokai Zona yokai che Sarà Ok Ecco Ok Io c'ho sempre il timore che spunti qualcos'altro Se fossi sicuro che lo debba affrontare Eccolo Sappiava io La Ok Ok Va Io so Sì Olè A posto E questo ce lo siamo fatto fuori Io Un esil me lo prenderei Qua abbiamo Poco Et fiamme Non che è un simpaticone Anzi Sono due simpaticoni Io direi che Uno di questi simpaticoni Me lo Ecco Me lo tiro così Va Ok A posto Nucle di Monacarro Monacarro Ok Che Che Uzzucarro Non c'entra niente Monacarro Vabbè Quindi andiamo di qui Sempre guardi alta Perché Eeeh Vabbè Allora Di qua Però Prima di andare di qua Quest'altra latata Dove c'è l'altro Orca Pu Orca Mite Orca Tro Ok Vabbè Affrontiamo anche Sto coso Ok Magari ti fai danno No Non si fa danno Manco per il caspio Perché non è fuoco vero È fuoco yokai Labu Iiii Iiii Schi è già morto Ah Ah Ok Eeeh Nucleo di Pondatara Ascia del Bruto Emo la situazione è bruta Forte È bruta Tanto Ma che si fa Salgo qui Salgo qui Ma qualora Mi sia concesso Per dire Scusa Equipaggiamento Allora Il Questo Per ora È inutilizzabile Perché non ho munizioni Ma Un arco Qua Questo Arco Di A0 Dovrebbe E' una buona opzione Qua non si va Ok Qua Ah Sale Qua Sono cultori Dell'insalata In questa Vabbè In questo posto Io Io Allora Io BOOM Tanto non sali Giusto Tanto te non sali Stai lì Non hai motori Di farmi danno Se non sali Ok Eh BOOM BOOM Io tipo Non devo sbagliare Un colpo Che sia uno No Ecco Proprio Questo Ok Ora Ho Tre Vici Ah Che mi fa Foco Ok Sì Ok BOOM 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 Foco Quindi Parecchio brutta La situazione Ok 354 Poi 358 Mi sto consumando Tutte le munizioni Solo per far fuori Sto coso Allora Da che io Non ci voglio Certo Piuttosto Lo lascio lì Se non Eh Piuttosto Lo lascio lì 355 158 La Buuuu La mia Notorella Dai Oh Mi ha liberato Mi ha liberato Mi ha liberato Mi ha liberato L'altra anima del monacarro Monacarro Mano male No Questo è morto Per il monacarro Vabbè Ora Mi guardo Un giro Ok Pierda l'anima Poi è bello Come tutte queste cose Che trovo Nelle Nelle casse Nelle cose Poi alla fine Non servono assolutamente A nulla Perché io nel frattempo Ho droppato cose migliori Eh È particolare Qua c'è sto Tizio Vabbè Vai Ok Allora Senti Tu Riconduci Alla santuaria Ti indica Sentimenti Indicagli Un posto Dove andare Bene Ah quindi Stazione Yokai Era Tutto Questo Quindi Ok Io pensavo Che si andasse Avanti Da sta Zona Yokai E No Evidentemente No Evidentemente No Io sto Così E E Allora Di qua Non si può andare Abbiamo capito Di qua Potrei Ecco Cadere di qui Ma poi Di qua Non si va Niente E Ok Fatemi controllare Un attimo La situazione Non vedo Non vedo Vie particolari Vedo soltanto Ok Allora Questo ora Mi dirà Qualcos'altro Adesso che abbiamo Fuori di qui Niente Sempre 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 Con tutta La simpatia Come si vuol dire Eh Sì Tu qua Non ci arrivi Ciao Io Me ne vado Di là Dove ci sono Ti Salve Cosa pensi Di fare Vieni Ecco Sì Uno Due Tre Come Scusi Ci ne è Qualcon'altro E E E Però Ecco Alla Putta Ok Probabilmente E' possibile Che queste zone Tu Ah Tu Sei Piuttosto Piuttosto Pesantino La Busterlenga Uno Due Tre Scusa Mamma mia Quanto danno Che fa Questo Quanto Danno Che fa Munizione Archipuge Ok Quindi Si prosegue Di qua Qua c'è Un cancello Che mi dice Di aprire E mi dice Quella Direzione E Non c'è Nient'altro Ok Un'altra Zona Yokai Oh Ma che Ma che Ma che Due Yokai Però C'è Vabbè Senti Come Sono messo A cure Cinque Ammunizioni Il Cavolo Di Niente Allora Ho capito La situazione Allora Quella zona Yokai E' stata Veramente Inutile Proprio Bellamente Proprio Bellamente Inutile Qua Qua c'è Soltanto Un tizio Da Ricondurre In qualche Maniera Di là Ma non So come Io faccio Una cosa Carina Sai Io Scendo Vado Al Santuario Mi Rifaccio Un po' Di tutte Le munizioni Che mi Devo Fare Ci Rifacciamo Si Conferma Tutte Cose Lasciagli Tutto Quanto Va Bene Allora Al Al Bazar Codama Al Bazar Codama Mi Pre Questo Cos'è Ce Ne Riconsacrate Ne posso Prendere Una E Le prendo Tanto Qua Questa Lo prendo Tutte Cose Questo Posso Talibano Del Brady Posso Si Why Why not Why not E Questo Non 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 Posso No 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 Vabbè Vabbè E Perché Infatti Poi Spunta Oh Allora Questo 82 E Questo 89 Morokoshi Signor Morokoshi Con me Che abbiamo Abbiamo da fare Di qua Morokoshi Allora Lascia stare Il simpaticone E Andiamo In qua Allora Sì Salve Eh Lo sapevo Che Andavete Andavete Pogliato Ah Benissimo Quindi L'hai Svegliato E poi Me l'hai lasciato A me Bravissimo Mi è Piaciuto Tu si Che sei un amico Allora Allora Puttana Ok Io Allora Sto Punto Comincio La Miseria Io Ok Senti Ah E quello E E Morto E E E Morto Sono morto Anch'io Benissimo Bene Ottimo 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 Va bene Allora Yamagai E Mokoshi Allora Sto Mokoshi Non è che Mi abbia convinto Tanto Su Friend Eh Mi sembra Che Vabbè Allora Qua Non posso Riprendere Non ho avuto neanche modo di usarli Perché mi hanno seccato prima Allora Facciamo una cosa carina Io vado dritto di qua Tanto Recuperare le cose Dovrebbe essere Immediato Ok Così ho recuperato le mie robe Qua E' un altro livello 82 Black Black Chaotix Va bene Meglio ne troviamo Eh Vabbè Ok Allora Io ho capito La situa Allora Equipaggiamento Arco L'ar No Dov'è L'archibugio Schioppoletto No E' schioppo Lo schioppoletto Sì sì Schioppo Schioppo Ok Allora Vediamo una cosa Ok Ho spiegato qualcosa No Ok E questi affrontati a 1 a 1 Si può fare Se li devo affrontare Contemporaneamente diventa Un problema Eccolo Urta Allora Ok Allora 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 In due In due In due su questo In due su Callatura Ok Vai Aggiungi Aggiungi Allora E vabbè E aggiungo Allora Ok Mentre Su Black Su Black Caotics Ha preso Legnate Inenarrabili E adesso Adesso C'è sto Coso brutto Adesso C'è sto Coso brutto E' bruttissimo Sto Coso brutto Oh no Oh no Ehi 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 Ok Bene Scusa Mi scusi Io non volevo Non volevo disturbarla Però Io devo passare lì Io non volevo Disturbarla Mi scusi Ma Eh Eh Ah Ok Ehi Va bene Il primo L'abbiamo seccato Ma Scusa Un attimo